Per rimanere in buona salute e svolgere le sue funzioni, il corpo umano ha bisogno di una certa quantità di energia, detta fabbisogno energetico. Il suo valore è molto variabile in relazione ai numerosi fattori che lo influenzano. Certamente le dimensioni corporee rappresentano un fattore rilevante, infatti il bisogno di energia aumenta se aumentano peso e o statura, ma altrettanto importante è l'età. Un adolescente in piena crescita, infatti, ha bisogno di più energia rispetto ad un adulto o ad un anziano. Il fabbisogno energetico dipende anche dalle condizioni di salute, perché le funzioni vitali di un organismo debilitato da una malattia sono sicuramente diverse da quelle di un organismo sano, così come dipende dall'attività fisica che si svolge durante la giornata. Un atleta, di conseguenza, consuma più energia rispetto a chi conduce una vita sedentaria. Vi siete mai chiesti come mai in montagna avvertite un senso della fame maggiore? La spiegazione è semplice. Quando fa freddo, il nostro organismo consuma più energia e quindi è necessario un apporto calorico maggiore. Infine, a parità di condizioni, gli uomini necessitano di più energia rispetto alle donne. Questo spiega perché il piatto del papà è solitamente più grande di quello della mamma. Anche a riposo, il nostro corpo consuma energia perché deve svolgere tutte quelle funzioni vitali che vanno sotto il nome di metabolismo basale, come il battito cardiaco o la respirazione. Per calcolare il fabbisogno energetico giornaliero, si deve aggiungere a questo valore minimo la quantità di calorie necessarie per le varie attività che normalmente si svolgono durante la giornata. Gli apporti abituali per un adulto che vive nel nostro clima si collocano tra 1800 e 2800 calorie al giorno, al di sotto delle quali il regime alimentare risulta squilibrato, il che significa che presto o tardi si manifesteranno i segni di una carenza vitaminica o di qualche altro principio nutritivo. In alcuni casi, però, il fabbisogno giornaliero può arrivare a superare le 5000 calorie al giorno, come avviene per esempio per alcune categorie di sportivi, come i ciclisti del Giro d'Italia durante lo svolgimento di una tappa di montagna. Così come il fabbisogno energetico indica la quantità di energia da assumere quotidianamente, la razione alimentare indica la quantità di alimenti da assumere per far fronte alle necessità quotidiane dell'organismo. Non è altro, perciò, che la traduzione delle chilocalorie in peso di alimenti. Tale razione va distribuita durante l'intero arco della giornata, per essere in grado di assimilare meglio i nutrienti e di sfruttarne in maniera ottimale l'apporto energetico. Finora abbiamo imparato che l'apporto energetico fornitoci dagli alimenti serve per fronteggiare la richiesta energetica dell'organismo, che è la somma di una serie di attività, il metabolismo basale, la termoregolazione e l'eventuale attività fisica. Un parametro importante per una sana alimentazione è il bilancio energetico, che deve essere equilibrato per mantenere un peso a forma e quindi un organismo in buona salute. Quando il bilancio è deficitario, perché il consumo supera l'apporto di energia, si ha una perdita di peso, che può rappresentare un serio problema di salute, così come avviene quando invece il bilancio energetico è in eccesso, perché l'apporto calorico è maggiore del consumo di energia. In questo caso si va incontro ad un aumento di peso corporeo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. In sostanza è necessario mantenere un bilancio energetico equilibrato attraverso una sana alimentazione e un'attività fisica costante. Se siete curiosi di sapere quanta energia è richiesta dal vostro organismo per mantenersi in salute, potete fare riferimento alla tabella dei LARN, dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. LARN è un acronimo che sta per Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti. Nella tabella sono riportate indicativamente le chilocalorie giornaliere che un adolescente dovrebbe assumere, riportate per fasce d'età e differenziate naturalmente per maschi e femmine, per i motivi che già conoscete. Per chi ne avesse bisogno, ho costruito una mappa concettuale in cui sono riportati i contenuti della lezione. Infine, ho preparato per voi due semplici attività che potete svolgere cliccando sui link indicati. La prima è un gioco che forse conoscete, le parole crociate, in cui dovrete cercare le parole legate all'alimentazione. La seconda è un questionario che dovrete compilare indicando la vostra mail, nome e cognome e poi scegliendo una tra le opzioni indicate per ogni domanda. Al termine dell'attività potrete visualizzare il punteggio ottenuto e gli eventuali errori, per i quali troverete anche un feedback necessario a comprendere l'errore stesso. Non è necessario che mi inviate nulla, mi arriverà tutto online. Buon lavoro e a presto!